Furto lampo la notte scorsa al supermercato Coppi in via Torquato Tasso a Fano. I ladri si sono introdotti intorno all'1.15 sfondando con una mazza il vetro di una delle porte antipanico situata nella parte anteriore della struttura. Una volta dentro il locale, i mai viventi hanno rubato un armadietto blindato con 25 cassette che contenevano negli scomparti circa 2.500 euro complessivi. Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della vigilanza privata e del commissariato di Fano che sotto la guida del dirigente Stefano Seretti dovranno visionare i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. Le cassette rubate dai ladri, secondo un testimone, sarebbero state ritrovate in una zona adiacente all'area di accoglienza data in gestione all'associazione di volontariato CB Club Mattei di Fano in via Madonna Ponte. Ma nel mirino dei ladri è finita anche la stessa protezione civile. Qui, per poter entrare, è stato spaccato il lucchetto posto sul cancello d'ingresso. Hanno sfondato ai finestrotti di uno dei tre moduli abitativi, strutture che contengono otto posti letto e che vengono utilizzati nei casi di emergenze, ma forse, vista l'assenza di oggetti utili o preziosi da portare via, hanno deciso di non entrare. La porta di questo modulo invece è stata soltanto forzata. Come potete vedere a terra ne è rimasto un pezzo. I danni provocati però non sono finiti qui. Anche questa l'hanno forzata? Sì, queste sono. Vedete, il lucchetto l'hanno tagliato e poi lo hanno aperto. Qui all'interno quello che manca sono due cose. Uno è uno soffione per le foglie, che era, diciamo, nuovo, perché l'abbiamo preso 5-6 mesi fa. E poi mancano le tronchesi, quelle grosse, che serve perché loro ce l'avevano sicuramente uno, perché sennò non sarebbero potuti entrare. E l'hanno portato via. Sennò il resto hanno buttato in terra un po' di roba, però non manca niente. Hanno fatto la scorta? Sì, sì. A pochi metri di distanza invece i malintenzionati hanno creato spazio nel deposito utilizzato dai volontari dell'associazione togliendo tutto ciò che era contenuto qua dentro. Secondo voi quanti potevano essere? Più di uno sicuramente, perché per spostare un tavolo del genere con una piana di marmo che noi in tre astenti riusciamo a spostarlo, sono riusciti a spostarli tutti e due così abbastanza messi bene, quindi non è una cosa tirata e strisciata da per terra, ma proprio sollevata e tirata fuori. Hanno accattassato tutte le cose là e hanno liberato questo posto. Non so a cosa gli doveva servire e per quale motivo l'hanno fatto. Ecco, qui che cosa c'era in effetti? Non c'è niente, c'è solamente come deposito. Noi tante volte, cioè adesso è sporco perché si faceva un po' di cucina, quando ti capita qua giù di fare una festicciola o qualcosa, però se no non c'è niente. Adesso era solo da pulire, da sbrogliare, da portare via. Comunque il materiale che c'era è stato portato tutto fuori? Sì, non è che è stato portato via. Anche quelle cose lì sono tutte rimaste qui, però l'hanno spostate. Il motivo non si sa. Questo potrebbe essere il luogo scelto dai ladri per concludere l'operazione eseguita poco prima al supermercato e quindi, indisturbati, avrebbero sistemato il bottino contenuto nell'armadietto blindato. Poi sono scappati a bordo del mezzo utilizzato, un Fiat Doblò di colore bianco rubato a Cesena, ma a quel punto, intercettati dai carabinieri di Fanno all'altezza dell'aeroporto, si sono fermati e si sono dati alla fuga a piedi, dileguandosi nei campi. Erano in cinque. Perquisita l'auto, i militari hanno ritrovato nel veicolo la refurtiva sottratta poco prima nell'area della protezione civile.